Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi un attimo con gli sviluppi della nuova serie che è in cantiere dunque mi avete dato un sacco di feedback positivi quindi alla fine la serie si farà si farà questa serie che sarà su come realizzare un progetto WordPress dall'inizio alla fine un tema WordPress dall'inizio alla fine in maniera professionale secondo le regole di WordPress.org prenderemo un design di alta qualità realizzato con Photoshop o con Sketch adesso poi vedremo come realizzarlo in base un po' anche alle vostre esigenze se ci saranno tanti che hanno Photoshop o tanti che hanno Sketch insomma vedremo più avanti però prenderemo un design assolutamente professionale e lo andremo a montare e a dinamicizzare creando un tema WordPress secondo tutti gli standard di WordPress.org senza utilizzare Visual Composer, senza utilizzare temi precotti o temi starter team di nessun tipo e arriveremo ad avere un progetto finale di altissima qualità che potremo mandare su WordPress.org e chiedere la richiesta di approvazione da parte della repo oppure potremo vendere a un nostro cliente per insomma adesso non voglio dire cifre però per buone somme di denaro perché il tema sarà di altissimo livello creato su un design customizzato ora mi sono messo a lavorare alla scheletta per realizzare tutto questo e 10 video non bastano ragazzi abbiamo fatto la serie che ho fatto più lunga finora è stata quella su Bootstrap e sono 10 video qui stiamo parlando di unire design WordPress e Bootstrap in uno stesso progetto, in una stessa serie quindi i video saranno almeno il doppio proprio per questo abbiamo bisogno di un posto che sia non i commenti di YouTube per parlare di tutto questo quindi ho pensato di creare un gruppo Facebook dove possiamo parlare di questo progetto ma più in generale proprio della customizzazione di WordPress condivideremo tips, risorse free su WordPress consigli, potete farmi le domande insomma vorrei creare proprio un punto di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo WordPress di un certo tipo di un certo livello ha quindi temi di alta qualità plugin di alta qualità e progetti WordPress customizzati di alta qualità senza Visual Composer senza i page builder ora il link per il gruppo è qui in descrizione quindi iscrivetevi se arriverò ad avere almeno 50 iscritti porterò avanti tutto il progetto ho in servo qualche sorpresina perché mi piacerebbe coinvolgervi quindi per esempio nella fase di design mi piacerebbe tirarvi in mezzo però per ora non vi anticipo niente iscrivetevi al gruppo perché lì comunicherò tutte le varie prossime news a riguardo ci sentiamo presto ciao